Ufficializzata la riconferma in panchina di Alfonso Pepe, che resta al timone della Gelbison dopo aver sfiorato i play-off, la società vallese è al lavoro per allestire la squadra che sarà per il settimo anno consecutivo al via nel principale torneo nazionale dei dilettanti. A sentire il direttore generale del club cilentano, Ugo Schiavo, l'intendo è quello di ridurre i costi di gestione e proseguire nella valorizzazione dei giovani del posto, incrementando la cura delle formazioni legate al settore giovanile. Con una politica corta e tesa alla crescita dei calciatori allenati in casa, dice Schiavo, cercheremo di razionalizzare al meglio e rendere meno onorosa la gestione, anche alla luce del fatto che nonostante il buon lavoro svolto e i risultati centrati non c'è stato quel riscontro atteso. Eviteremo spese folli. Ora la nostra attenzione, continua il direttore generale, è rivolta all'iscrizione per il prossimo campionato e dopo aver espletato questa pratica cercheremo nei primi giorni di luglio di definire la questione squadra e programmare il ritiro. La novità riguarda proprio la sede della preparazione. Infatti, come conferma lo stesso di Gischiavo, non sarà affatto in loco al Morra, ma sono al vaio un paio di soluzioni. Piaggine o Torraca? La scelta si rende necessaria per una questione economica, prosegue il direttore. La squadra dovrebbe ritrovarsi a metà luglio anche perché, in virtù del sesto posto raggiunto nella passata stagione, prenderà parte alla Coppa Italia di Lega Pro. Diversi giocatori lasceranno il club rosso-blu tra questi Falco e Gisonni, che sono certi della partenza, ma anche altri, tra cui il bomber Cappiello, che appare destinato a lasciare vallo della Lucania. Stessa sorte per l'estremo difensore d'Agostino, finito nel mirino di un paio di club di Lega Pro. La politica del nuovo corso è quella di puntare su calciatori cilentani, in questo senso vanno le conferme di Ferraioli e Passaro, ma anche quelle di Giordano e Manzillo, anche se su questi ultimi due ha messo gli occhi il Picerno, che sta facendo una corte spietata per portarne in Lucania. Altro tassello che sembra inavovibile è Mejuri, mentre dopo le esperienze fatte in eccellenza rientrano alcuni under. La manna, che è stato promossa in Serie D con l'Ebolitana, Cresciullo e Serva, invece ritornano dal Santa Maria, come Cutri che si è segnalato con il Pisciotta. Intanto il Consiglio federale ha stabilito le date d'inizio della prossima stagione. Il campionato di Serie D parte domenica 3 settembre e si chiude il 6 maggio, mentre la Coppa Italia di categoria si mette in moto il 20 agosto, con finale il 20 maggio.